Ciao a tutti! Nella passeggiata odierna tratteremo un po' la tematica dell'insegnamento ai bisogni quindi l'idea di come insegnare a un cucciolo a fare la pipì nei luoghi più adatti. Oggi abbiamo sempre la nostra gina, Arlok che ci accompagna nella passeggiata e più vedremo i cucciolini dell'allevamento quindi Border Collie e grandi bovari svifferi che ci accompagneranno in questa uscita tutti assieme. Quando si decide di acquisire un cucciolo con sé in famiglia soprattutto se è ancora piccolo di due mesi poco più bisogna soprattutto amarsi di grande pazienza e coerenza per insegnargli dove e quali saranno i luoghi più corretti appunto dove poter sporcare e quindi dove fare i propri bisogni. Innanzitutto vi voglio raccontare qualcosa dei cuccioli di questa età. Un cucciolo in età così giovanile non ha ancora la capacità di trattenere urine e feci e quindi quando sentirà lo stimolo nel fallo tenderà subito ad accucciarsi e farli con immediatezza non riesce quindi a trattenerlo a trattenere questi bisogni per tante ore o per meglio dire tenderà a farli soprattutto tutte le volte che si sarà svegliato, le volte che mangerà e nei momenti di interazione più fisica quindi ad esempio quando giocherà, quando si agiterà per qualche motivo. Questi aspetti fisiologici tendono appunto a far sì che il cucciolo debba compiere le proprie deiezioni. Dal punto di vista quindi temporale non vi potrete programmare l'idea di far uscire il cane a distanza di qualche ora cosa che invece sarà fattibile subito nei mesi successivi. Quindi armatevi di pazienza e coerenza e cercate il più possibile di portare il cane appunto all'esterno tutte le volte che saranno accadute queste cose. Ve le ricordo tutte le volte che si sveglierà, tutte le volte che avrà giocato e quindi che si sarà attivato e tutte le volte che avrà mangiato. Questi sono i momenti principali in cui dovrete accompagnare il cucciolo all'esterno. Il meccanismo per cui un cane impara a sporcare appunto all'esterno è proprio di associazione positiva quindi appunto premiatelo e elargite un premietto tutte le volte che appunto il cane avrà sporcato fuori, sull'erba in particolare. Quindi io vi consiglio proprio di utilizzare questo metodo. Andiamo a sfatare qualche luogo comune. I cani non vanno sgridati nel momento in cui fanno i bisogni in luoghi che non ritenete idonei. Quindi mi raccomando toglietevi dall'idea di dover sgridare in maniera a volte anche che è molto molto tosta. Ad esempio a tutt'oggi si sente dire che il cucciolo va preso, messo con il muso vicino alla pipì e poi sgridato. Assolutamente cose da non fare. È un po' il medioevo della cinofilia questa idea. Ricordatevi che un cucciolo se si dimostrerà poi intimorito nei vostri confronti perché appunto ha fatto una pipì in casa il timore sarà proprio per questo metodo estremamente violento che avete utilizzato e non perché è consapevole di aver fatto una malefatta. Dal punto di vista quindi dell'insegnamento associate solo meccanismi di tipo positivo. Ricordatevi anche di non pulire in presenza del cucciolo stesso. Quindi se al vostro rientro a casa il cucciolo avrà sporcato ad esempio sul pavimento e questa è una cosa che voi non volete che accada non iniziate a blatterargli dietro e appunto farvi vedere tutti i stessiti nel pulire perché fino all'età dello svezzamento la madre si occupava proprio di loro nell'ambito della pulizia. Quindi qualsiasi atto che il cane vede di pulizia delle proprie deiezioni per lui rappresenterà una situazione di autogratificazione. Quindi mi raccomando pulite all'esterno portate sempre con voi sacchettini igienici e altro per poter pulire le loro deiezioni. Questo sarà un'ulteriore gratifica per il cucciolo stesso. Ricordatevi anche appunto che i cani soprattutto se di media grande taglia hanno uno sviluppo psicomotorio più lento rispetto ai cani di piccola taglia. Quindi se acquisirete un cane di grossa taglia abbiate proprio la giusta pazienza nel gestire questo fattore dei bisogni perché con loro sarà estremamente importante. Bene io vi saluto se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale youtube Dog Galaxy. Sono Stefano Cavina un caro saluto a tutti al prossimo video. Ciao 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 Grazie Grazie